Buongiorno, signora. Che cosa cerca? Vorrei un chilo di uva e una lattuga, per favore. Avete bisogno di qualcos'altro? Ah, sì. Avete le ciliegie? No, signora. Non è ancora. La stagione delle ciliegie. Se no, ho la melagrana. No, grazie. Va bene. Quando è la stagione delle ciliegie? E' in estate, intorno a giugno. Quali frutti tropicali avete? Ho dell'ananas. Voglio prendere anche un ananas. Quanto costa in totale? Tre euro e cinquanta per l'uva. Novanta centesimi per la lattuga. E un euro e cinquanta per l'ananas. Cinque euro e novanta in totale. Ecco, grazie. Arrivederci. Arrivederci, signora. Arrivederci. 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 Grazie a tutti